siamo a un passo dallo scudetto del napoli come sta vivendo questi momenti è un sogno che ci ricordiamo per tutta la nostra vita tu sei molto giovane non hai vissuto magari gli scudetti di maradona questo tuo primo scudetto vissuto come lo stai aspettando è un'emozione che non ci dimentichiamo più che te l'ho detto è i brividi i brividi la cosa più bella è vedere negli occhi dei ragazzi la felicità che questo napoli ci ha donato ai ragazzi noi già l'abbiamo visto anche se ero piccolino però è stato bellissimo leggere negli occhi dei ragazzi la propria felicità e niente ragazzi forza napoli stiamo vivendo un sogno questo scudetto è di tutti i napoletani e di tutti quelli che hanno sempre sostenuto il napoli nel bene nel male questo quartiere come tutta la città in festa pieno di addobbi ci siamo raggruppati più di 30 amici abbiamo fatto un'aggregazione tutti insieme ci prenderemo anche l'impegno dopo per smaltire tutti questi insomma questi striscioni siamo contenti siamo stanchi dopo tanti anni di abusi dopo 33 anni il napoli sta per rivincere il campionato come sta vivendo questi momenti di attesa è bellissimo c'è una grande atmosfera che ci sta in città e altro divino questa cosa magari al ricordo anche dei scudetti precedenti dell'epoca di maradona c'è qualche differenza con l'epoca o rivive la stessa emozione la c'era maradona adesso ci abbiamo simen cravaschelli e poi ci abbiamo una città che desiderava questa cosa lei magari anche ricordi dello scudetto di maradona vivere stesse emozioni o sono cose diverse o più forti adesso sono più forti di allora magari oggi non si attendeva ok si partivamo sfauriti al massimo invece poi si è rilevato tutto il contrario e da tifoso di lunga data cosa vuole augurare magari ai giovani che stanno vivendo per la prima volta questo questo momento che posso augurare di conserva no di conservare questo momento perché poi ci vorrà anche i 30 anni non lo so spero di no ed è bello ricordare questa festa per chi vive fuori come te cosa significa uno scudetto della propria squadra è un'emozione è una gioia immensa straordinario ritrovare la città addobbata a festa come mai prima d'ora cosa significa ecco forse ad addobbare un po prima non mi è tanto da andato giù però diciamo che lo scudetto ce l'abbiamo vinto e ci sta ci sta dopo 33 anni in napoli sta per vincere il suo terzo scudetto tu sei uno degli artefici degli addobbi di qui a bia fontana è un'emozione unica dopo 33 anni che io non l'ho mai vissuta che sono dell 89 stiamo vivendo cose grazie al napoli e grazie anche a torre del greco che torre del greco c'è in qualsiasi occasione se essa sia e un grazie soprattutto speciale a tutta la gente del quartiere perché tutti questi addobbi sono sacrifici economici e spero che la città soprattutto la campagna sarà in festa grazie al napoli grazie 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 ragazzi vi auguro non uno altri 100 perché grazie a voi state realizzando sogno dei bambini anziani delle persone che non ci sono più e anche per loro è tutto questo per chi non c'è più